Ciao ragazzi e benvenuti in questo video, io sono Fraxel, infatti sono Fraxel98 e faremo un video su un gioco scrivendozza limiti nella realtà. Iniziamo! Mi servirebbe la luce, perché non ci vedo. Ecco a te. Grazie. Ehi, lei signora, mi servirebbe una pesca. Ecco a te. Grazie. Ehi, lei signora. E tu perché stai viaggiando? Mi servirebbe una moglie. Ecco tu una canna da pesca. Attacchi su un cioccolatino e non è serato. Grazie. Vorrei visitare tanto Parigi. Vorrei visitare tanto Parigi. Grazie. Ecco ti. Grazie. Grazie.